Il raccordo per l'autostrada tra Rezzo e Battifolle sarà interamente chiuso al traffico dall'11 aprile fino al 22. Sono infatti in programma i lavori alla sede stradale che saranno svolti in orario notturno. Le chiusure infatti, come detto, inizieranno martedì 11 aprile e termineranno il 22. La fascia oraria in cui il transito dei mezzi sarà interdetto andrà dalle 20.30 alle 6.30 del mattino. L'annuncio questa volta è stato fatto per tempo proprio per evitare che si crei il caos formatosi per l'asfaltatura nella parte del nodo di Olmo che ha mandato in tilt la città almeno per un paio di giorni. Dunque 11 sere serviranno a rendere il raccordo sicuramente più funzionale e con una manutenzione perfettamente a posto. Ricordiamo da martedì 11 aprile fino al 22 aprile.